cari amiche e cari amici ecco voglio cominciare questo video prima di entrare proprio nella vivo della pratica della meditazione voglio cominciare parlando della dell'insegnare la meditazione perché ho notato su youtube che ci sono moltissimi che si improvvisano insegnanti di meditazione ecco per se noi insegniamo una qualsiasi materia all'università anche in un istituto qualsiasi di istruzione per fare questo dobbiamo avere molti anni di formazione alle spalle e ad esempio se vogliamo insegnare il latino vogliamo insegnare il greco dovremo avere una formazione specifica riguardo a queste lingue antiche e questo esige molti anni di lavoro molti anni di applicazione questa è una cosa che tutti sappiamo che tutti diamo il po scontato se c'è un insegnante di greco già sappiamo che una persona che ha studiato e si è dedicato a quella lingua molti anni altro discorso a riguardo alla meditazione perché se la materia che prendiamo in oggetto non è familiare non fa parte della della nostra vita quotidiana o della nostra cultura le cose non sono così semplici e questo è proprio discorso che possiamo fare rispetto all'insegnamento della meditazione e la pratica all'insegnare la meditazione richiede molti anni di pratica innanzitutto poi richiede aver sperimentato aver sperimentato determinati livelli di meditazione e la pratica anche di conferma da parte di un maestro per quanto riguarda la meditazione profonda che è la tecnica praticata sul mio canale ecco è molto importante avere la conferma da parte dell'insegnante che si può insegnare e poi fare alcuni mesi se non anni di pratica con il maestro riferendo al maestro anche dei propri insegnamenti delle reazioni dei propri allievi non è una cosa così semplice perché qui giochiamo non solo con la psiche ma con le parti più profonde delle persone non sarei dire con con l'anima delle persone quindi non ci si può improvvisare insegnanti di meditazione un insegnante improvvisato tratta la meditazione come la può trattare ad esempio un artista improvvisato un dilettante che si mette lì magari a dipingere altra cosa invece è un professionista che ha studiato per anni e così via ecco fatta questa premessa passiamo subito all'argomento del video purificare la mente ecco questo è un altro punto da chiarire come abbiamo chiarito il maestro chiariamo questo fatto della della illuminazione perché spesso nella meditazione c'è questa sorta di mito della illuminazione di quindi si rischia di immaginare il cammino come una sorta di eterna preparazione in vista di questa sorta di evento che è quasi irraggiungibile cioè l'illuminazione totale la liberazione e tutto ciò condizione in maniera massiccia quella che è la pratica spirituale quotidiana invece piano piano dobbiamo abituarci a vedere che tutto è meditazione ogni cosa è meditazione questo fatto dell'illuminazione questa fissazione sull'illuminazione può far avere molte reazioni diverse a seconda delle persone delle persone per esempio si possono scoraggiare che magari dopo mesi di pratica vedono che questa illuminazione non arriva mai e allora pensano di fare qualcosa di inutile ma invece non è così per questo sin dall'inizio è importante vedere la meditazione legata con la consapevolezza che possiamo avere in ogni nostra attività della vita quotidiana e in ogni nostra relazione con gli altri tutto può essere oggetto e può essere occasione di pratica della consapevolezza e quindi di pratica della meditazione ed ecco allora che possiamo affermare che ogni piccolo avanzamento nella nostra pratica della consapevolezza anche ogni nostro piccolo avanzamento quotidiano eh o l'essere consapevoli quando siamo nelle relazioni degli altri non semplicemente del rimorginare dei commenti della nostra mente ma sapersi ad esempio fare il vuoto e sapersi immedesimare entrare in empatia con chi ci sta di fronte e così via ecco ognuno di di questi attimi di consapevolezza bene applicata va vista come una sorta di piccola liberazione e per chi pratica meditazione profonda dunque è importante vedere tutto il cammino e tutta la pratica come un continuo succedersi di tante piccole liberazioni e allora ecco che ogni momento del cammino diventa un valore in sé allora ecco che potremmo gustare quello che è fondamentale nell'ambito della meditazione cioè il momento presente e usciremo da questa continua proiezione sul futuro da questo continuo portare la nostra mente al pensiero di un evento questo della illuminazione che chissà mai se accadrà o quando accadrà e ci sono poi degli esempi gautama il buddha per esempio ci può aiutare moltissimo vedere la vita di questi di gesù di buddha di questi eh grandi personaggi eh che hanno lasciato un patrimonio immenso per tutta l'umanità e questo può aiutarci meglio proprio a comprendere la purificazione mentale e per esempio se prendiamo la vita di buddha ecco il principe siddhartha nel momento in cui decide di visitare il mondo al di fuori dei palazzi esterni chi non conosce la storia può andarla a vedere sulla mia playlist sul buddismo eh ecco che il principe siddhartha si perché eh quando esce fuori dai palazzi si rende conto di non sapere si rende conto che gli manca una conoscenza una comprensione fondamentale che è quella riguardo alla sofferenza e questa consapevolezza viene attraverso questi famosi incontri ricordate con il vecchio con il malato il morto con il monaco si accorge di non sapere qual è l'origine della sofferenza e dunque di conseguenza di non conoscere il bene o di non conoscere quella forza intelligente che da sola ci può condurre a superare la sofferenza o accettare la sofferenza includerla nel nostro processo evolutivo ed ecco dunque da questo esempio del buddha in questa fase ci troviamo di fronte a una prima virtù che è quella della umiltà l'umiltà di essere del riconoscimento di essere privi di conoscenza e questa umiltà deve rimanere sempre perché ci sono poi persone che già dopo pochi mesi eh stanno lì e pensano di essere chissà che livello evolutivo già cominciano a insegnare agli altri senza il mandato del maestro e a volte fanno dei veri e propri disastri quindi umiltà questo discorso di umiltà vale per tutti in tutti i livelli comprendere che non abbiamo non sappiamo realmente e su nulla sui pilastri fondamentali della purificazione quindi sull'essenza della sofferenza e così via tutto questo implica uno sfondo di fede una intuizione di fondo che ci dice che noi sappiamo che è possibile liberarsi da tutto ciò dunque fede intuizione potremmo chiamarla in una parola unica perché sono talmente legati da che possiamo fare una parola unica fede intuizione e senza questa condizione potrebbe alimentarsi il nostro ego oppure potremmo eh eh quando ci imbattiamo nel cammino neanche riconoscerlo e Gautama invece intraprese proprio questa strada verso il bene verso l'illuminazione prendendo atto di questo seguendo questo suo questo suo eh istinto questo suo impulso verso la fede e cominciò a capire che tutto andava ribaltato tutto andava visto in maniera diversa relativamente a alla 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 via che eh al cammino che aveva fatto fino allora ecco l'importanza della vita dei maestri e Gautama abbandona il suo mondo conservato va verso un mondo diverso che quello della foresta quello dell'ascesi dove si apprende soltanto e si apprende ciò che lui non sapeva e ecco la solitudine e anche questa solitudine fa parte dell'apprendimento e questo nostro metterci tutti i giorni in meditazione fa parte dell'apprendimento e questa è la parte attiva della purificazione mentale perché ci porta a conoscere proprio la natura della mente in virtù di nuove condizioni di vita che sono la meditazione l'introspezione la ricerca di valori profondi la relazione col maestro eh anche qui è è deteriorato un tempo ci si sarebbe stato disposti a farsi uccidere per il proprio maestro eh oggi ci sono addievi già dopo dopo un anno di meditazione e pretendono di dire al maestro quello che devi fare come si deve comportare nella propria vita e dunque entrare in questa nuova mentalità della purificazione mentale e di queste nuove condizioni di vita solitudine la tecnica di meditazione la la relazione con il maestro e poi di conseguenza tutto quello che ne consegue le relazioni con gli altri con i nostri familiari eccetera eccetera e questo è l'inizio proprio della purificazione riconoscere di non sapere esattamente come fece il principe ehm il principe Siddhartha eh e poi prima di insegnare eh sappiamo tutti le austerità che che arrivo a fare Siddhartha e in questo percorso sviluppare l'equanimità la ehm pratica dell'imitazione profonda eh significa stabilire un rapporto sempre più amichevole con la propria mente e e qui proprio un punto da chiarire perché siccome spesso parlo dei rischi dei trabocchetti dei trucchi che ci tendono a nostra mente e allora ci potrebbe essere un malinteso come se io parlassi della mente come un pericolo una nemica ma non è questo in realtà noi la nostra meditazione è una meditazione che include e anche la mente va inclusa l'osservazione della mente serve a non frammentarci interiormente a non creare separazione dentro di me a fare amicizia con tutte le nostre componenti ombra e anche con la nostra stessa mente non è un caso che insisto tantissimo sul non giudicare sull'accettare qualsiasi cosa viene sul trasformare qualsiasi cosa in oggetto di meditazione e quando siamo chi chiusi il nostro oggetto fondamentale di meditazione è proprio questo libero flusso del pensiero lasciare libero flusso del pensiero e quanto meno giudichiamo la nostra mente tanto più gli diventiamo amici e tanto più diventiamo amici della mente tanto più saremo elastici gli amici delle altre persone perché svilupperemo consapevolezza ossia capacità di familiarità di intimità con la nostra mente dunque non abbandonare la mente schivarla quasi a volerla uccidere ma accompagnarla in una sorta di silenzio amichevole essere vicini alla mente qualsiasi sia il suo stato questa è un'altra cosa importante non è che uno dice mi fa male una gamba non posso meditare sono agitato non posso meditare non è questo con la pratica si può meditare su tutto certo se abbiamo proprio una febbre a 40 ma sono casi eccezionali insomma altrimenti tutto è oggetto di meditazione tutto può essere incluso in questo atteggiamento è possibile quindi conservare questa attenzione partecipe qualsiasi siano i contenuti della nostra mente nel presente ripeto attenzione verso la mente osservazione della mente consapevolezza dei flussi mentali qualunque siano i contenuti della nostra mente in quel momento questa è la nostra meditazione qualunque cosa accada e questo è un punto fondante del lavoro interiore da qui si vede anche l'avanzamento delle persone comprendere che la mente è importantissima per noi una grande amica perché tutto dipende dalla nostra mente è lei che crea il velo di maglia e quindi comprendere la mente significa capire che la nostra vita coincide con il flusso della mente con i pensieri della nostra mente e dunque non ci cureremo mai sul serio della nostra vita finché non avremo una 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 seria cura della nostra mente e accudire la mente e vegliare la mente e pensiamo a quello che facciamo con i bambini i bambini se noi abbiamo un atteggiamento amichevole immediatamente ci sorridono vengono ci danno le carezzine come abbiamo un atteggiamento ostile nei confronti di bambini immediatamente questo bambino o si spaventerà o si metterà a piangere o avrà atteggiamenti ostili e dunque la mente immatura la mente che ha un comportamento immaturo è facile che entri nel disordine e nell'ansia e invece accettare la mente entrare le azioni nella mente e questo richiede una preparazione e una preparazione che può essere di mesi a volte una preparazione che può essere anche di anni un lungo tirociglio perché perché noi siamo abituati che le prime reazioni che abbiamo davanti a uno stato spiacevole e negativo sono quelle di cercare di evitarlo di sbarazzarci immediatamente di questo stato e magari cerchiamo di dimenticare questo stato di ignorarlo di sopprimerlo di fuggirlo tante possono essere le reazioni rispetto a uno stato d'animo negativo ma attenzione perché tutto ciò che è atteggiamento di violenza tutto ciò che è atteggiamento di odio ci ritorna indietro e dunque mai la violenza e l'odio possono essere curati con gli stessi veleni della violenza e dell'odio invece dobbiamo osservare con distacco assorbire con delicatezza ciò che accade nella mia psiche osservandolo integrandolo si integra automaticamente attraverso l'osservazione perché dall'osservazione scapulisce la consapevolezza e la consapevolezza ha come sua natura quella di creare l'unità di integrare ed ecco che anche un male interiore che possa avere piano piano si trasformerà in un processo lento ma progressivo e anche automatico esattamente come quando innaffiamo la piantina il seme c'è un automatismo che piano piano farà venire fuori come germoglio e poi come come piantina e così la nostra natura dal momento in cui non saremo più preoccupati di sbarazzarci dello stato spiacevole dello stato negativo e ci renderemo conto che anche da questi stati si può imparare moltissimo anche da questi stati possiamo imparare moltissimo dunque possiamo dire che se non siamo guidati bene la nostra consapevolezza se non siamo aiutati dal maestro soprattutto perché il maestro è fondamentale senza maestro non si va avanti non c'è niente da fare mettetevi l'anima in pace anche coloro che hanno avuto le piccole illuminazioni le cose senza maestro non si va avanti ha voglia a voi prima di uccidere il buddha dunque dicevo la consapevolezza può essere usata sia per aumentare lo stato di separazione di paura sia per alimentare un atteggiamento di unità di integrazione nei confronti di noi stessi dunque dobbiamo mettere la nostra attenzione a servizio della consapevolezza e non della paura dell'ego del voler eliminare del voler cambiare a tutti i costi perché tutto questo sposta l'energia nella direzione contraria rispetto alla capacità curativa e guaritiva della meditazione e si fa un esempio nella tradizione orientale dove c'è il serpente che se non lo sappiamo prende nel modo giusto ci morde o del veleno del serpente che può servire come antidoto verso altro veleno oppure può uccidere bene amici ci vediamo al prossimo video continuate con la pratica un caro abbraccio a tutti marco cosmo